c'è con tutto che schivo c'è con tutto che schivo c'è questo lo schivo tranquillamente l'altro non lo schiva no se non riesci a variare il primo prendi la hit ti devo rinunciare a un attacco per potermi curare se voglio curarmi stavolta l'ho evitato no 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 ne fai un altro immaginavo me lo immaginavo che ne avresti fatti di più prevedibilissimo ok che liberazione brutto sacco di merda lo conoscevi fammi un favore se dovessi vedere altri di questi berserker spettrali non risparmiarti madonna uno di dodici questi guerrieri sono tuoi nemici sei parecchio agitato anche per i tuoi standard non ha senso rivangare il passato non ti cambierebbe nulla quindi non è difficile assolutamente vabbè ma d'altronde mi sembrava strano che avevi tutti i colpi targettati su te stesso cioè non potevano fare una cosa del genere sarebbe stato veramente una merda sarebbe stata una cosa infamissima vedi quando mette le mani quando mette le mani in avanti qua lo devo variare ai voglia porca troia ti dobbio Grazie. Ok. Grazie a tutti. 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 Quindi non devo spammare troppo l'attacco perché sennò mi succede che lui mi contrattacca. Invece... Invece... Ecco, allora. Ho fatto la cazzata. Perché poi quando fa questo attacco che si butta è completamente... è completamente fatto. Nooo... Quindi ho perso di viittomo anche qua. La comune... La comune... Non è da in violenza. Invece... Non è da in violenza. Non è da in violenza. Non è da in violenza. Tu poi potrei anche schivarlo in realtà, vedi? Perché con la schivata in realtà... Vedi, posso schivare il primo e parliare gli altri. Esatto. E' più comodo. E' più comodo. Mi dispiace. Mi dispiace. Puoi di prendere il primo e parliare gli altri! Tu mi dispiace! Ce lo puoi evitare. Schivarlo è più facile. Eh, poi parli l'altro. no levati ok ma che mi devi spezzare sei zitto cretino ormai ho capito come giochi vedi perchè gli altri poi sono più facili da parriare non ci credo che hai sto grandissimo punto debole sei il più facile tra tutti allora cioè proprio sei il più facile da leggere sei il più facile perché così evito di farmi spezzare la guardia e lo countero dopo con tranquillità ah non sei morto si ok invocare lei era dopo ciò che hanno fatto cos'è lei era era un regno pacifico pieno di artisti e poeti ma è caduto in rovina molto tempo fa per colpa di quei berserker l'oro e di quel maledetto re rolfer il poco sangue che mi rimane mi ribolle nelle vene mi vivi qui godiamoci questa vittoria e andiamocene non c'è bisogno di sostenere questo peso da solo sei tu a sostenere il grosso del lavoro qui lascia che mi preoccupi io del peso alla tua sinistra non preoccuparti ce la puoi fare schiava kah A sinistra! 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 Forte al nemice di l'aereo! Chi ha fatto? Perdita vita! C'è il suono, spazzatura! Schiappa! Non c'è di nulla! Non vali il mio testo! Schiappa! Perdita vita! Non c'è di nulla! Schiappa! Non vali il mio testo! Chiappa! 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 Non sai nulla! Non fai il mio tempo! Questo regno, Lei, vivevi lì un tempo? Prima di vivere con gli Aesir, sì. Un altro dei miei spettacolari fallimenti. Catturando questi spiriti cerchi redenzione. Voglio solo spedire questi maledetti mostri a El, a cui appartengono. Non la chiamerei proprio Redenzione, ma starò meglio quando sarà finita. Witzerker l'Impavido! Error! Sorgerà ancora! L'Impavido! Così si fa! Tauta! Per te! È la fine! Ahia! Tutto ok, sì? Tauta! Non per te! Oh! 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 Sopra il fratello! 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 A sinistra! Sopra il fratello! 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 Si fidava! Sopra il fratello! 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 A presto! 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 E come ci si sente a ottenere vendetta? Vorrei solo risparmiarti la delusione. Io... Ho proprio no idea... Anche se ne lancio le frecce non l'assunno. A presto! Fratello, fratello, sei coperto di Bifrost! A presto! A presto! E che è che però così fallisce il piano di non usare le armi. Vabbè, 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 sei solo per buttarla giù. Vabbè, sei solo per buttarla giù. Eh, si può fermare, ok. Immaginavo una cosa del genere, però non ero sicuro. Stai fermo! Stai fermo! Cretino! Cretino! Stai fermo! No! 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 Non sai fare di meglio? Pianza! Pulpink, Pibro! No! No! Pibro! Ehi! Come oggi? Pibro! Pianza! No! Minchia! Non sai fare di meglio? Pulpink, Pibro! No! Fuca! Oh, credo! Questo era l'ultimo? No! Resta solo il re o no? Esatto, c'è il re! E se pensavi che questi berserker fossero tosti, beh, ho pensato a ciò che hai detto, fratello. Forse è il momento di lasciare... Uh, armatura dei berserker! Guardare l'anima di un morto con questa vecchia spada non cambierai. E' bello sentirtelo dire, ma voglio affrontarlo comunque. Cosa? Dopo tutte quelle lezioncine su odio e vendetta. Non lascerò che uno spirito malvagio vaghi per Midgard. Volevo essere sicuro che volessi farlo per il motivo giusto. E' pazzesca sta roba, oh! Non posso parlare con... Anche nel primo God of War c'era sta roba. C'è, basta che mi confisce di lato. E non fai il danno. E non fai il danno. Anche nel primo c'era. Anche nel primo c'era sta cosa. Vedi, se tipo si sposta così e va di lato... E mi colpisce, se è sbaglio, anche... Di un pixel... Mi fa danno, mi colpisce e mi fa danno. Nooo... Vai a fuoco Kratos, passerà. Chiara c'è un brinchi a lungo? Volevo staccare prima. M'è che pobra, spiegato tantissimo. Volevo staccare prima. oddio anche il pulmine qua nella lungo fa non l'avevo ancora fatto la donna si era spostato di lato in che si era spostato di lato mamma mia che rischio oh oh ora fa in piena ok fai zitto eccolo ok 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 Grazie a tutti. 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 Oddio, ma ha preso la spada? Posso usare la spada? Se fosse giustizia o vendetta, a volte una cosa non esclude l'altra. Cosa intendi fare con la Scoffnung ora? Voglio usarla. No, non capisci cosa comporta quell'affare. Per non parlare delle anime dei berserker malvagie. Ah, è un cimelio però. Ah, è un cimelio però. Non cancellerà la sua storia. No, ma la storia di questa spada non è ancora finita. Le future generazioni soppeseranno le sue buone azioni e quelle malvagie. Poi decideranno. Sei cambiato molto da quando ti ho incontrato, fratello. Mi sono stati dati buoni consigli, fratello. Oh, lo chiama anche lui fratello adesso. E' la resa dei cubano. La pagerai del ciocchi e il cotta. Outta, sottovecchi. Fai, io disuardo! E' magia di sigillo. E' magia di abbandonata! In ginocchio! Attento, fratello, sei coperto di Bifrost. C'è sangue di ossa! Che odio! Che brutto colpo! Stai bene, fratello! Su! Su! Cambio le frecce! Lascare ti! Play alright! Spogio! C'è sangue di asca! Siava! Siamo stati accecati entrambe da Odino Non deve finire così Pianco E rasta C'è sangue di Asgard I nostri anime moriranno Schiaffa Arrendi C'è sangue di Asgard su di te Un ginocchio Sbaglio di fuoco Scambio le frecce Auka Sbaglio di Asgard Sbaglio di Asgard In ginocchio Che freddo, stai bene? Perasco Arrendi Sottometti Sottometri 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 Grazie a tutti. Oh, deluso! Tu giudichi me. Tu, che con la tua codardia hai lasciato interi regni in rovina. Sorella, conosco bene l'odio che brucia dentro di te. Ho sentito quelle fiamme, conosciuto il conforto di quel calore. Io ho sbagliato. Questo non lo posso cambiare. Ne potrò mai scusarmi abbastanza. Ma l'odio... La vendetta. Devi lasciarteli alle spalle. Finiscimi. 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 Sì. Sorella. Finiscimi. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.